Parliamo di cinema, il film breve che si chiama Padre Vostro, diretto e interpretato da Amiro Vallone, scritto insieme al nostro collega Luca Pompei, si è giudicato il premio come migliore sceneggiatura nell'ambito della terza edizione del Rag Film Festival di Venezia. Il film è tratto da una storia vera e ispirato al racconto La figliolanza di Massimo Cortese. Il premio vinto è appunto quello per la migliore sceneggiatura e in pochi anni questo festival è diventato anche un festival di prestigio. In questa edizione le nuove categorie previste per la sezione dedicata ai film brevi sono stati solo tre i vincitori italiani e tra questi c'è appunto la produzione dell'abruzzese Tam Tam Communication che in collaborazione con il Fiume La Memoria Festival ha realizzato quest'opera completamente made in Abruzzo. Padre Vostro racconta la vicenda di Angelo Lamberti, un pubblico ministero che dopo aver fatto condannare a 30 anni di carcere Dario Setrani perché aveva ucciso la moglie, decide di prendersi cura dei suoi due bimbi. Lamberti ottiene l'affidamento dei bambini pensando poi al sostentamento e alla crescita, ma lo fa in assoluto silenzio. Una scelta che il magistrato ha portato avanti con abnegazione e costanza. La storia di questo film breve è ispirata a questa vicenda reale, quindi complimenti sia a Milo Vallone che al collega Luca Pompei.